Cari Tasticino si occupa di comunicazione e di informazione da diversi anni, da 23 lo fa attraverso l'emissione televisiva settimanale e più recentemente con l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. Per questo, in occasione della giornata mondiale delle comunicazioni, Cari Tasticino vuole proporre delle riflessioni partendo dal messaggio di Papa Francesco che è improntato sulla buona notizia, la buona novella e la speranza. E lo facciamo attraverso le testimonianze del Vescovo Valerio, del nostro Presidente Robin Orris, di alcuni colleghi e di alcuni volontari che durante l'anno ci aiutano a proporre dei temi di nostro interesse. Buona notizia è anche notizia buona nel senso che la notizia va approfondita, va scelta, va presa dalla fonte per poi dare il tempo necessario per ascoltarla. Anche questa è dare dignità alla notizia, all'informazione. Così anche noi come Cari Tasticino potremo diventare quei canali viventi di cui Papa Francesco parla alla fine del suo messaggio. Il messaggio del Santo Padre per la cinquantonesima giornata delle comunicazioni sociali sembra ingenuo, parla di buone notizie, di diffondere la buona notizia, per cui sembra apparentemente ingenuo. In realtà il problema della speranza è un problema grandissimo che per esempio noi nel servizio sociale vediamo ogni giorno. Le persone arrivano magari con una situazione disastrata, con una situazione difficile in cui sembra non ci siano strade e il nostro compito è trovare una speranza e a volte la speranza significa anche aiutare le persone a stare di fronte alla realtà, stare di fronte a quello che devono incontrare, che devono sfidare, con il quale si devono misurare. Il Papa parla di speranza, parla di fiducia, parla in qualche modo di offrire all'uomo contemporaneo quella sorta di orizzonte, di significato in cui depositare la propria storia. Le notizie buone o cattive appartengono ormai a notizie che rischiano di non avere storia. La comunicazione di massa avviene nell'immediato, avviene in quella dimensione che chiamerei della serializzazione dell'informazione, per cui tutto sembra poi alla fine uguale. Chi fa della comunicazione oggi deve assumersi la responsabilità di aiutare il pubblico ad evolvere uno spirito critico che sia intelligente, che sia arguto, che sia sicuro di sé. Per fare questo chi fa comunicazione ha molti strumenti e in particolare ne ricorderai due che mi stanno abbastanza a cuore. Il primo, coltivare la memoria, perché di fatto noi siamo la nostra memoria e quello che capita oggi è meglio comprensibile solo se conosciamo quello che è avvenuto in passato. La memoria è un patrimonio a cui non possiamo rinunciare, perché la conseguenza è la perdita di identità, un fenomeno a cui stiamo assistendo qui nella nostra cultura occidentale. Però la memoria, e qui mi collego al secondo strumento importante, è selettiva. Noi non possiamo ricordarci tutto, non possiamo ottenere tutto, dobbiamo per forza selezionare. Oggi quindi, dato che la rete presenta un'abbondanza di informazioni indiscriminata, spesso e volentieri rischia di annullare l'informazione, perché chi non ha gli strumenti non riesce a fare distinzioni. Quindi è fondamentale che chi fa informazione, chi fa cultura, chi fa comunicazione, aiuti il pubblico, quindi i lettori, gli spettatori, eccetera, a sviluppare questa capacità e questo spirito critico, in modo tale che il web e la rete diventi lo strumento di aiuto maggiore nella conservazione della nostra identità e non il contrario. Credo che quello che sia importante è che si faccia della buona comunicazione, che le notizie si sappiano spiegare, si sappiano contestualizzare, senza necessariamente fare dei grandi discorsi e delle grandi analisi che in un certo tipo di messaggio non possono essere inserite, ma spesso se le cosiddette cattive notizie vengono spiegate meglio, vengono studiate, vengono contestualizzate, questo è sicuramente più utile e interessante che non il contrapporgli e giustapporgli semplicemente delle buone notizie. Si perdono le gerarchie, si perdono, come dire, spesso gli approfondimenti e allora noi siamo, come dire, invasi da informazioni o da buone e cattive notizie perché il tema non è solo la cattiva notizia in sé che naturalmente è presentissima, basta guardare un telegiornale o basta aprire un giornale per rendersene conto, non è soltanto la cattiva notizia che ci fa diventare un po' dei wire o come si chiamava durante la rivoluzione francese delle tricoteuse, quelle che facevano maglie mentre si tagliava la testa in piazza, non solo ci trasforma in quello, ma la cosa peggiore è che le notizie ormai, buone o cattive, soprattutto quelle cattive, sono in qualche modo annellate nella comunicazione come se avessero tutti lo stesso valore, come se fossero in qualche modo tolti dalla loro dimensione storica, quindi dalla dimensione dentro la quale l'uomo realizza le sue responsabilità, i suoi orizzonti, i mondi nella quale le notizie si collocano e questo naturalmente le banalizza le notizie. Il grande problema non è la notizia cattiva, il mondo è anche cattivo ed è anche giusto presentarlo per quello che è, ma è la notizia banale, è la banalizzazione della notizia che fa in modo che in qualche modo una cosa terribile che è successa oggi, domani è già cancellata oppure domani verrà messa in prima pagina insieme alle notizie più sciocche e più banali del mondo. Guardando in fondo anche la realtà del mondo della comunicazione oggi c'è il rischio che il linguaggio utilizzato scada eccessivamente nella ricerca di sensazioni facili, in uno scontro quasi irriducibile tra posizioni diverse, in polemiche anche particolarmente acide, mettendo da parte invece un'esigenza che dovrebbe prevalere che quella del dialogo aperto all'ascolto dell'altro, della ricerca che si lascia interpellare anche da opinioni differenti, questo per costruire qualcosa, quindi per fare dei passi innanzi nel cammino sia della singola persona sia anche nel cammino della comunità e della collettività in generale. Il tema è apparentemente molto scontato, forse anche apparentemente un po' banale, è quello della buona notizia, ma credo che Paolo Francesco ci aiuti veramente ad andare nella profondità di questo argomento. La prima dimensione è quella di richiamare i cristiani all'essenza stessa dell'annuncio cristiano che è il Vangelo, cioè appunto un buon annuncio, un annuncio di una buona notizia che è Gesù stesso. Dio si è fatto uomo per salvare l'uomo. Ma insieme, questo è molto importante, a più riprese nel testo, Papa Francesco ci ricorda che questo avviene non dimenticando la morte e la sofferenza. Anzi, Gesù si fa uomo per salvare l'uomo proprio perché l'uomo era fallito, proprio perché c'è la morte, il peccato, la sofferenza. Gesù comunicava attraverso le parabole e le parabole non sono semplicemente dei racconti edificanti, sono dei dispositivi narrativi per suscitare speranza, per riaprire un cuore che si era trappito nella paura, ha una prospettiva di luce e di salvezza. Noi abbiamo bisogno di notizie di questo tipo, di parole che arrivino a muovere il cuore, che non riempiono soltanto la testa di idee o di situazioni che sono segnate dal fallimento o dalla morte, ma che aprono davvero alla fiducia di poter agire nella storia dando quel contributo di bene che il nostro cuore desidera dare. Siamo purtroppo in una realtà molto, molto complessa, carica di distorsioni, di contraddizioni, di disagi e quindi attecchiscono facilmente i messaggi forti, riduttivi, quelli che scaricano un po' tutto su dei capri espiatori abbastanza facili. E questo devia un po' una giusta riflessione che, partendo comunque dal riconoscimento di questa complessità, di questi disagi, tenda ad andare alla loro radice profonda, non scada appunto nella ricerca facile di capri espiatori, ma sappia costruire partendo da un'assunzione precisa di responsabilità da parte dei singoli, ma soprattutto anche dei corpi sociali, che le difficoltà e le contraddizioni di oggi siano così un trampolino per una ricerca autentica di una solidarietà più estesa, più ramificata e anche di una maggiore equità a livello sociale. In questo testo viene fatta questa metafora, questo paragone sul comportamento che ha il nostro cervello di macinare le informazioni che arrivano dal mondo esterno. Forse oggi il mondo è cambiato e non siamo più solo noi a macinare le informazioni, ma sono proprio i mezzi di comunicazione che filtrano, macinano e poi ci ripropongono la lettura del mondo. E questo quindi cambia completamente il rapporto che abbiamo noi con la realtà e quindi bisogna dire che obbliga il giornalista a una responsabilità ancora maggiore di come viene letta la realtà. C'è un'etica, un'etica del giornalista che quindi deve assolutamente assumere questa responsabilità per capire come riproporre, come macinare quelle informazioni che diceva. Bisogna dire che la stessa realtà è questo, il problema dei mezzi di comunicazione può essere letta in maniera completamente diversa. Nasce anche questo ruolo. importante del giornalista che quando legge, ripropone e indossa degli occhiali. Altro termine molto bello che troviamo in questo testo. Quindi la realtà viene colta con degli occhiali. Quali occhiali il giornalista deve mettersi per poter raccontare la storia del mondo che ha davanti. Ecco che qui secondo me c'è un grosso lavoro da fare dove questi occhiali quando hanno le lenti della speranza, hanno la lenti di una positività di quanto accade, permette di leggere le stesse realtà in maniera diversa. C'è la disperazione nel mondo, certo, c'è la fame, c'è la guerra, certo che ci sono, raccontiamole. Ma ci sono anche dei piccoli segnali dentro queste storie che ci dimostrano la grandezza dell'essere umano, la grandezza della solidarietà, la possibilità di riuscirci nonostante le situazioni difficili che tutti possono incontrare. Ecco che allora il giornalista diventa un narratore, un narratore di storie e può scegliere quale storia raccontare, sempre ancorata alla realtà, sempre, senza raccontare cose non vere, ma con questi occhiali che leggono la speranza anche laddove forse fatichiamo a vederla. Chi è cristiano vedrà attraverso queste singole buone notizie anche l'opportunità, come dice Papa Francesco, di indossare gli occhiali della fede e attraverso queste vedere la possibilità che Dio stesso, anche nel male della storia, possa condurre un percorso di salvezza. Se mi interrogo per me cosa vuol dire questo, come comunico, cosa comunico, quello che in qualche modo mi richiama è che la buona novella indica un prima e un dopo. Tutti i giorni, quotidianamente incontro persone che iniziano magari i nostri programmi o che incontriamo in altre situazioni che mi dicono che non ho più speranza. Che cosa comunicare, cosa dire a loro? In qualche modo credo che la comunicazione sia fatta di un tecnicismo, è fatta di una strategia, è fatta anche di mezzi, strumenti, ma soprattutto in qualche modo la comunicazione dice di noi. E allora forse questa speranza per me passa dal fare un percorso insieme, dall'esserci. E quindi a partire da questo, a partire dal vivere insieme un'esperienza, si può comunicare la possibilità che questa buona novella non sia solo un'idea, ma questa buona novella concretamente è la possibilità che oggi la tua vita abbia un sapore differente, che oggi la tua vita possa essere un'espressione di pienezza, non in modo artificioso, ma perché viene praticata dentro un'esperienza, dentro una relazione. Il Vangelo è una buona notizia, perché le nostre notizie, anche quelle più difficili e più tragiche, non possono essere raccontate in una maniera tale che certo rimane la concretezza, rimane la drammaticità delle situazioni, ma insieme, mentre le ascoltiamo, ci sentiamo attivati, impegnati a operare anche noi perché quel bene che ci portiamo nel cuore possa finalmente apparire. A me pare che questa indicazione del messaggio del Santo Padre sia estremamente preziosa in un momento in cui le notizie sono date soprattutto per scioccare, per impressionare, per scandalizzare, per portare l'indignazione, ma spesso dimenticano questo ruolo fondamentale della comunicazione che è mettere in contatto con la realtà e suscitare un impegno attivo nel cuore di chi li ascolta. La cattiva notizia non è la cattiva notizia, ma è la notizia banale, contro la quale abbiamo poco da fare, siamo in qualche modo saturati da queste notizie, siamo in qualche modo messi nella condizione di non poter più sempre sviluppare quello spirito critico che permette di cogliere il cuore della buona e della cattiva notizia, mettendoli, e questo il Papa lo dice, mettendoli nella dimensione in cui l'uomo può trovare, come dire, il coraggio del suo progetto, può trovare la responsabilità del suo vivere e può trovare qualche cosa che fa in modo che quello che capita lontano da noi ci appartenga perché è in qualche modo l'altro, non è che è il nostro fratello. Buone notizie, cattive notizie. Per me la buona notizia è che nell'era della comunicazione il pubblico è il padrone assoluto della comunicazione, di come la si fa e di come la si propone. La cattiva notizia? Beh, la cattiva notizia è che se l'affermazione che ho fatto come buona notizia è vera, rimane però un po' teorica perché nella pratica, e questa è la cattiva notizia, il pubblico non esercita praticamente mai questo potere, questa possibilità di condizionare la comunicazione e in fondo di esercitare quindi la propria responsabilità. Di fronte a queste affermazioni almeno due domande sono legittime, da dove viene questo straordinario potere e come mai non viene esercitato? Da dove viene il potere che il pubblico ha nell'era della comunicazione sulla comunicazione, su tutto quello che viene prodotto? Da qualche cosa di concreto, di molto semplice da capire, la comunicazione costa, costa molti soldi e non può essere pagata in modo diretto, cioè vuol dire io non posso pagare un giornale con il prezzo della copia o con l'abbonamento, non basta, non posso pagare una trasmissione televisiva perché pago il canone, non è abbastanza. Ciò che paga la comunicazione è tutta quella serie di prodotti indiretti che sono determinati dalla quantità di pubblico, la pubblicità per intenderci. Ecco perché il pubblico, l'audience è ciò che realmente determina la possibilità di continuare a produrre un certo tipo di comunicazione. La seconda domanda è come mai non si esercita questo potere visto che lo si ha e quindi non si esercita la responsabilità nei confronti della comunicazione. Io credo che il motivo sia anche qui abbastanza semplice. Non crediamo che la singola persona possa incidere su una realtà ampia e complessa, cioè sostanzialmente ognuno di noi pensa che statisticamente il suo peso è irrilevante e allora non si impegna. Poi gioca anche naturalmente la pigrizia che non ci fa muovere, non ci fa diventare attivi. In questo quadro diciamo che purtroppo la comunicazione appare come un qualcosa che viene rovesciato addosso a una mandria che va al macello. È deprimente ma purtroppo sembra essere così. Ma io credo che invece ci sia qualcosa da fare. Evidentemente bisogna fare un percorso molto difficile, molto lungo di presa di coscienza, presa di coscienza della propria responsabilità nei confronti della comunicazione. Ma voglio fare un esempio, un esempio che mi ha toccato, che ha toccato Cari Tasticino recentemente. La trasmissione Patti Chiari della RSI, una trasmissione molto seguita, ha fatto una puntata dedicata ai programmi occupazionali per i disoccupati e in particolare al programma che Cari Tasticino gestisce a Pollegio. La tesi di Patti Chiari era che i programmi occupazionali non servono a nulla e le persone che fanno questi programmi sono tutte scontente. Per dimostrare questa tesi sono andati a prendere alcune persone insoddisfatte e hanno costruito un reportage assolutamente tendenzioso e poi una trasmissione televisiva nella quale in studio c'erano queste persone insoddisfatte. Il problema è che la realtà è tutt'altra ed è stata completamente ignorata da Patti Chiari. Ignorata nel senso che neanche la si è contestata, si è semplicemente evitato di parlare del fatto concretissimo che la stragrande maggioranza, più del 90% delle persone che fanno dei programmi occupazionali a Cari Tasticino, dichiarano e lo scrivono di essere soddisfatti perché hanno portato via o una buona esperienza o addirittura molti anche un nuovo posto di lavoro. Allora di fronte a Patti Chiari uno dice siamo impotenti, infatti abbiamo scritto alla televisione e abbiamo ricevuto naturalmente la letterina del direttore che ci tranquillizza, che dice sostanzialmente che non c'è da preoccuparsi, ma io credo che invece si possa fare qualche cosa. Io lo faccio da anni, da anni io non guardo un certo tipo di televisione, da anni io non guardo Patti Chiari e mai io prenderò una copia del 20 minuti, il giornale gratuito che si può prendere in stazione, perché? Perché prendendo quella copia o accendendo il televisore o guardando su internet una trasmissione, io sto firmando il mio sostegno a quel tipo di produzione. Ora quel tipo di produzione io posso contestarla e contestarla in modo energico, quindi esercitare il grande potere che ho come pubblico e la mia responsabilità dicendo no, questo prodotto io non lo voglio. Lo faccio da anni, provate anche voi.